A colpire chi non fa, il funzionario pubblico che blocca o rallenta le procedure amministrative e non più il dirigente che si assume coscienziosamente la responsabilità di firmare per sbloccare un'opera. Tra una metafora e l'altra, sebbene sia stato approvato con la formula salvo intese e quindi non ancora in forza di legge, la Presidente del Consiglio non nasconde il suo entusiasmo per il decreto semplificazioni. La madre di tutte le riforme dice e aggiunge, velocizzare appalti ed opere ma nello stesso tempo non abbassare la guardia contro il malaffare. Nella sintesi un provvedimento in grado di unificare il Paese spiega il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture De Micheli. Ridurre le disuguaglianze tra Nord e Sud e tra Est e Ovest Provvedimento dunque che deve ancora essere completato restano solo nodi tecnici e non politici, rassicura Palazzo Chigi, ma per le opposizioni si tratta dell'ennesimo annuncio dell'esecutivo. Momentaneamente sicuramente possiamo confermare che la maggioranza ha confusione, ha un tasso di religiosità importante. Sullo sfondo la tenuta del governo e l'ipotesi di rafforzare la coalizione in vista delle regionali di settembre di questo e di altro hanno discusso a Palazzo Chigi Conte e il figlio del cofondatore del Movimento, Davide Casaletto. Avete parlato delle alleanze regionali? Abbiamo parlato un po' di tutto.